La prima giornata di campionato del 2018 La prima giornata supera i Veneti della Pontese nell'incontro più atteso della giornata con il punteggio di 16-8. Non ha problemi la Perosina in casa contro la Ferriera per 20-4, mentre nelle altre due partite vincono in casa la Borgonese 21-3 contro il Masera e il 90 in casa si impone contro Gallianico per 17-7. In Serie B, nel girone A-Ovest, nello scontro al vertice, la Chiavarese supera il Pozzostrada 16-8 e porta a tre punti il suo vantaggio sulla Benettese, che invece perde in trasferta sui giochi della Ostana per 13-11. Nell'altro incontro il Velo Club prevara 14-10 sulla Bassavalle. Nel girone B, giornata dei pareggi, vince il capolista Rosta, che chiude sul 12-12 in casa contro le Bocce Mondovì, che il Nitricontoz in casa per 12-12 contro la Bigenovese. Primo successo stagionale della Calvarese 14-10 contro il Nus. Nel campionato di prima divisione, pareggio esterno del San Bernardo Ibrea 9-9 sui giochi del Marene Bocce, entrambi in vetta alla classifica con tre punti nel girone A. Vince la Tola Chivasso 10-8 in casa contro l'Agnellese. La Tola Chivasso 10-8 in casa contro il Nus.